Buon uomo, siamo a tutti, guarda, è una partita che è sempre da una prima per la giornata della giornata. E' sempre il secondo, il secondo, il mondo, 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 il mondo. Non so, le nostre costituzioni, il piano, il rapporto, il mondo. 25 secondi 25 secondi il capo Fabriano numero 30 a mezzo al giallo 12 davanti in smarco con 6 e Andres con 7 l'intento per la guerrasca Martelli Martino Martetti Rusca Martelli un saluto al presidente del calcio a 5 il non pesi adesso eccoli qua pronti gli altri Lucarella e Danilo tutto pronto per iniziare Grazie a tutti. 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 Il gruppo Marchetti e il gruppo Agostinone. Il gruppo Marchetti e il gruppo Marchetti EFSD e il gruppo Marchetti e il gruppo Marchetti. non va il primo dito non va il secondo non va il primo dito 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 non va il secondo non va il primo dito si riparte non va il primo dito 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 non va il primo dito